Eccola qui Gli eventi della settimana a cui io non andrei Buongiorno Eribi Buongiorno a tutti Come stai? Come stai? Come stai? Bene 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 L'ultima volta che eravamo seduti qua insieme stai morendo Più o meno sì ma poi vedi Si stava decomponendo ragazzi Perché viene il discorso Tu è stato uno delle ultime a vedermi ancora vivo No ma comunque la cosa più divertente Che poi io domenica mi sono decomposta Infatti sono in ritardo di due giorni Infatti potete sentire ancora questa voce Molto sexy Molto affascinante Ecco sexy era la parola che mi mancava Comunque sempre a criticarmi Io non capisco perché Gli applausi erano per me chiaramente Chiaramente Oppure per Adriana che ha cantato in macchia Forse per lei Va bene ragazzi Banda delle ciance All'altezza del ponte di Bucinasco sul Naviglio Che canta Sì 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 E gli applausi del pubblico di Corsico Mentre passi Sì che potrebbero anche esserci In realtà Vista la fauna Dovremmo inventarci un festival Dell'applauso? No festival della canzone mobilitante Cioè nel senso Invece se ci fosse Festival della canzone viaggiante Bello ci andrei molto probabilmente Mentre il festival dell'applauso credo di no No Perché vi dico questa cosa Vabbè A me applaudire mi imbarazza Mi fa male le mani No mi imbarazza sempre Ma in qualsiasi contesto Da un contesto piccolo A San Siro da applaudire Vasco Un pochettino mi sento a disagio Vabbè Ed è capiamo che qui insomma dei problemi esistono Ma forse perché non so Prova dire Ma fa niente Andiamo avanti Dai Ne ho tantissimi Vai vai Dici tutto Allora Allora Intanto vabbè Uno dove assolutamente non andrò È che oggi vengono inaugurati I bagni misteriosi Ah bene Quella che molti chiamano La piscina di via Botta Tu E basta Ma se è rimasta Milano Chiamarla così Solo tu E viene inaugurata oggi A noi non ce ne fregamo niente Ma come? Un po' no Adesso stiamo un po' esagerando così A me personalmente A Eribi non interessava Va bene Ok Poi Sai che ci sono gli europei? Sì Ok All'ippodromo Tutte le volte che giocherà l'Italia È la prima credo sia domani Contro l'Albania Non vorrei dire una stupidata Ci sarà questo evento Che si chiama Foodball Che giacca con la parola football Club Domani è dalle 20 All'ippodromo San Siro Chef in camicia In occasione delle partite dell'Italia Ci sarà Che sono chef in camicia? Eh si chiamano così Chef in camicia Ah ok Comunque L'esordio Contro l'Albania Il 15 giugno Sì domani 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 A tal proposito Iniziano oggi tecnicamente Ah ok Infatti dal 14 giugno dice No inizia dal 15 per le partite dell'Italia L'Italia gioca domani Ah sì ma dal 14 prima No no Non ho detto niente Vabbè comunque questo è il primo evento dove tu sicuramente andrai Dopo vi dico che cosa faccio io quando ci sono le partite dell'Italia Ma dicelo subito Allora qualche giorno fa mi hai chiesto Senti per caso hai il calendario delle partite dell'Italia Sì Hai detto Sì ma perché Quando è che ti metti a seguire le partite No perché quello è l'orario ottimo per andare a fare la spesa C'è capito Quindi io alle 20 e 30 inizia la partita No gioca manca alle 6 Perfetto ancora meglio Perché sennò devo andare a trovarmi il supermercato che mi resta aperta fino alle 22 Allora c'è qualcuno che sta scrivendo invece sul discorso del vergognarsi per l'applaudire Adriana dice Eribi se puoi consolarti anche io mi vergogno tantissimo ad applaudire Mi sento ridicola Credo per l'ingombro pettale Cioè credo che sia per il fatto che No io No no Generoso No non credo sia per quello Tu perché hai braccia corte No al dia di questo Che un po' è vero Ma no Penso proprio che sia una roba da non fare Ma che nessuno dovrebbe fare Applaudito la schiena Adriana se te il problema è quello Applaudito la schiena Cioè io mi vergogno a fare urlati Così non è un problema Cioè di felicità Non ti vergogno a fare urlati No no Ok Però applaudire è una roba che non mi piace Va bene ok Quindi Adriana non so Comunque è sempre bello trovare qualcuno che ha le tue stesse malattie mentali Adriana io ti do un consiglio Però no serio Applaudi sopra la testa Ah no Pensavo riduci il petto No no si può fare Applaudi sopra la testa Così non arrivi Vabbè comunque Lasciamo questa roba Che è un argomento molto probabilmente da affrontare Sì Ma con uno specialista Esatto Comunque vabbè insomma Queste partite dell'Italia Io vado a fare la spesa Quando ci sono le partite dell'Italia Ok benissimo A tal proposito Visto che l'Italia Nella serie di eventi della settimana A cui andrei È la spesa durante le partite dell'Italia Assolutamente sì E consiglio vivamente a chi non gli frega niente del calcio Eh ma sono tanti ultimamente Quindi attenzione Ma no Secondo me no Comunque A tal proposito Visto che l'Italia gioca contro l'Albania Vi segnalo Questa parentesi vuol dire che non c'è nessuno in giro Perché insomma gli albanesi ci sono tanti in Italia Quindi la spesa la fai in dieci minuti Vi segnalo Questa sera Che non c'entra niente con le partite Ma fa niente Alle 21 in via Volturno 32 C'è il Ciro e il Faromo in albanese Ok E questo ci andresti o non ci andresti? No ovviamente Cosa capisco? Oh mamma mia Abbiamo degli amici albanesi Ci li portiamo dietro Ci li facciamo aiutare Fabio Tu sei stato in Albania Sì Puoi capire che non si capisce niente Quando parlano tra di loro Però so dire gamberetti in albanese Vabbè bravo dicelo Carcalizza Ecco Grazie Spero che non sia una parolaccia In realtà ho perlato una parolaccia Io mi fido dei miei amici albanesi Avrei detto una parolaccia enorme Va bene Quindi questa roba Il Cineforum ci andrai tu Ok Poi vabbè È un percorso mensile Non so se ve ne avessi mai parlato Percorso mensile? Sì È un percorso mensile Oggi c'è la puntata del mese di giugno Dalle 19.30 alle 20.30 In via Morbelli numero 7 C'è Gypsy Spring Percorso mensile di Gypsy Duende Secondo me ne avevamo già parlato Eh? Non si è capito niente Allora Il percorso si chiama Gypsy Spring Ok Ed è il percorso mensile di Gypsy Duende E chi è Gypsy Duende? È una persona che fa questa roba evidentemente Ma roba cosa? Insegna a fare la cosa Gypsy Ma cos'è la cosa Gypsy? Non ho capito Allora ragazzi La peculiarità di questa rubrica È essere approssimativi Quindi posso farsi e balla Si balla, si canta Si balla, si canta E si fanno delle cose scritte sull'evento Te Non si è capito niente Così è obbio che non ci vado Vabbè Fa niente Pensavo ti interessasse Visto che sei un po' Gypsy Ma c'è Gypsy King? Questo non ho capito No Non c'entrano niente Perché sennò avrai detto Gypsy King C'è la musica balcanica Può essere L'immagine è una tipa che balla La Taranta? No No Poi ti potrebbe interessare fare il battesimo della sella? Che cos'è? Impari ad andare a cavallo Ma non c'è una cosa che mi piacerebbe fare Bisogna trovare un cavallo molto grosso però Questo è body shaming Lo so Però l'avrebbero fatto anche a me Comunque Battesimo della sella è cibo dove Scusate Battesimo della sella è cibo agli animali Dove? All'agricola All'agricola puoi fare Non ho capito Ma gli animali sono il mio cibo O io devo dare il cibo agli animali? Tu dai il cibo agli animali Stamattina è difficile ragazzi Ma se si mangiamo il cavallo Settimana scorsa stava morendo Invece questa settimana qua è importante Comunque il 15 giugno alle 10 e 30 E il 16 dalle 18 e 30 Quindi c'è sia la versione della mattina che la versione della sera Ecco va bene Inaugurazione l'ho già detto Tu sei un appassionato di Game of Thrones Per niente Allora lunedì in tutta Italia Su Sky Uscirà la seconda stagione Di La casa dei draghi Diciamo House of the Dragons House of Dragons Che cosa succede al castello? Arrivano i draghi Arrivano i draghi Esattamente Si trasformeranno in Westeros Che è l'ambientazione diciamo Aspetta sai cos'è? E' l'Ougurz vostro Esatto Esatto Per la proiezione del primo episodio È in lingua originale Quindi che cosa andate a capire? Anche perché chi lingua parla è un drago La domanda è questa Esatto In contemporanea con gli Stati Uniti d'America A partire dalle 22.30 Di domenica 16 Ci sarà la proiezione all'interno del castello sforzesco Allora io ho mai più nella vita Cioè nel senso vi spiego perché Ho visto l'ultima puntata di Il trono di spade Insieme a delle persone E ho deciso che non lo voglio più vedere con nessun altro Se non con la mia amica Marilena Perché è distraente Sì 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 Quindi da lunedì inizierà questa Quindi tu non vai al castello perché ci sono gli altri Sì ma poi soprattutto sapete perché non ci vado? Perché ci sarà la gente invasatissima Cioè va bene ragazzi Cioè non è che vado a vedere Vistitti dai neri No aspetta Cioè è come se andassi a vedere Le puntate di Bridgerton Vestita da Da Damina del Settecento Però posso dire Ripi questa volta Che staresti molto bene Vestita da Bridgerton Forse sì Da Bridgerton è una delle cose Che potrei fare effettivamente Comunque non spoilerate Perché anche ieri è uscita questa roba Ieri è uscita La seconda parte Della stagione Attuale di Bridgerton Quindi Nessuno deve spoilerare questa roba Ricordo sempre che l'attrice Che fa Bridgerton Ha fatto un'altra serie bellissima Che trovate su Sky Solo in lingua originale Ma è qualcosa di pazzesco E stupenda Che è Dairy Girls Invitato appunto Nell'Irlanda del Nord Non c'entra assolutamente niente Con Bridgerton È molto precedente anche Nonostante lei Vabbè in realtà Interpreta una ragazzina del liceo Quando in realtà Comunque c'era già quasi 30 anni Però nel senso Sì esatto Perché non è neanche piccola No 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 Però Anzi mi fa capire E fa un personaggio completamente diverso Da quello che fa in Bridgerton Soprattutto Molto molto più comico Però mi sento di dire che La fisionomia Delle donne Soprattutto inglesi Quando invecchiano Invecchiano molto avanti nel tempo Aiuta a mitigare Il passaggio dell'età Sì 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 Pensate alla regina Elisabetta È stata giovane per una vita È ancora giovane adesso Sei tu che mi hai detto Che la regina Elisabetta E Mary Lou Avevano la stessa età Sì sì Nel senso Abbiamo visto questa cosa Che effettivamente La regina Elisabetta E Mary Lou Sono nate lo stesso Identico anno La differenza nel nostro ideale È che appunto Da una parte La regina Elisabetta È sempre stata anziana Per noi E invece Mary Lou Non è mai potuta essere anziana Quindi C'è questa cosa strana Nel nostro cervello Che flippa Quando ci pensi A queste due cose Ok Ti faccio flippare Un'ultima volta Allora L'ultima volta È l'ultimo evento Di questa settimana Che Milano diventa La capitale delle bocce No bellissimo Perché c'è L'imperdibile weekend Dedicato alla specialità Raffa Che io non so cosa sia Cosa non lo so anch'io Alla bocciofila Caccialanza Che forse tu sai Dove sei Dove sia Da domani e dopo domani C'è il La capitale delle bocce Quindi tutti i ragazzi A giocare a bocciette Yeah 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 Via Padova Via Padova la caccialanza Ecco Circo la bocciofila caccialanza In via Padova 91 Bello Ti piace Questo ti piace Sì si mangia anche Ecco Ma tu trovami Un evento Dove non si mangia No non un evento Proprio la bocciofila E c'è un ristorante O è ristorante la bocciofila Mi piace come si chiama Perché si chiama Di base si mangia Bello Bello vedi Ecco quindi Quindi magari tu non vorresti Perché non vuoi andare a vedere le bocce Però scusa Che è un po' noioso Ma non è vero No sai che cos'è Poi si vestivano dietro Di base c'è una roba Mi piacerebbe giocare a bocce Quando ero bambina Al mare Mezzo campione No no Le bocce del mare Non contano No firmati Stavo dicendo tutta un'altra cosa Quando ero bambina Per andare al mare Passavo da un campo di bocce Dove c'erano i vecchi Abruzzati che bestemmiavano Eh vedi Però mi fermavo lì A guardarli È molto noioso da guardare Da giocare È più divertente Sì 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 Io dico sempre Come il baseball Non so perché Il baseball Era pallosissimo da vedere Ma la giocare È divertentissimo Attenzione che Adriana Che ci sta seguendo Secondo me ha fermato la macchina Noi wallow dentro a Navidio Non lo so in questo momento Ma ci sta seguendo Dice Attenzione però per le bocce Perché se ci sono i nonni Potrei trovare marito Così ha detto Quindi insomma Devo dire Autostima alle stelle Punti in alto proprio Alle 7.48 del mattino Però questo bagno Di oggettività realtà Anche no Certo certo Va bene Io avrei terminato La prossima settimana Farò eventi dedicati Al passaggio del tempo Non è vero Non ho capito in che senso Non è vero Perché questa che mi Presta a vivere È la mia ultima settimana Da giovane Perché? Cosa vuoi dire? Perché poi faccio 41 anni E fino a 40 anni Sei giovane 41 non lo sei più Secondo me Inizia così Non sono più i 25 Non sono più i 30 Ma sono arrivati i 40 Ma sono già arrivati i 40 Avevi già 40 anni Te lo do questa notizia No però Stai passando oltre 40 Quindi sono finiti i 40 Finiti i 40 Basta Ok Questo discorso Secondo me lo risentriamo identico Fra 4 anni Quando dici no Perché non sono più i 40 Sono i 46 Quindi fare così Comunque è un grande trauma Tranquilla Puoi anche utilizzare Un mezzo pubblico Come la radio Per fare terapia Però magari c'è qualcuno Che mi può aiutare Così ecco Se fai un appello A chi ci sta seguendo Magari Ma perché non facciamo Un evento noi? Ma quando? Cosa? Grazie L'ansia del compleanno Vieni Guarda Su Facebook Troverebbe sicuramente Tra la lista Degli eventi che trovi Il titolo va benissimo Posso ringraziare? Che cosa? Di essere stata qua anche oggi Di aver fatto questa bella trasmissione Di avermi dato questo bellissimo spazio Comunque posso dire I miei ospiti Non è che ringraziano così Ma io non sto dicendo Mi stai denigrando Mi stai denigrando i miei ospiti Assolutamente no Assolutamente no E vorrei fare tantissimi complimenti In realtà A Tamara Sì Che riesce a dare Anche i mezzi pubblici Per arrivare al luogo Eh sì Lì mi ha stupito sempre Cioè io non so neanche dove sia Scusa? Io non so neanche dove sia Una volta i miei posti Cioè tu un indirizzo qualsiasi Però ragazzi Cioè la base di questa rubrica È essere Io vi do un'idea Voi fate un po' come volete Cioè nel senso Io non ci andrei Voi ci andreste Quindi se siete interessate Cercatevi E informatevi Cioè l'altro Il sottotitolo Cioè È 20 settimane A cui non andrei Fate un po' come volete Sì sì Spannometricamente Oh io vi dico Poi io Fatti voi Ah sì Secondo me ce la potete fare E dai Così potrebbe essere Eri B e E dai No sarebbe troppo romano Come roba Ok no va bene Va bene dai Andiamo con un po' di musica Grazie mille Eri B Ciao ciao Noi ci sentiamo Settimana prossima Sempre qua Con gli eventi A settimana A cui Eri B Non andrebbe Andiamo invece con un po' di musica A noi quella musica ci piace E quella è di Noemi Non ho bisogno di te